coronavirus stabili contagi e ricoveri focolaio astigliano individuato nella scuola benvenuti al telegiornale rai della basilicata contagi sotto controllo e pressione ospedaliera stabile questo è il quadro dell'emergenza sanitaria fotografato nel bollettino di oggi ma l'attenzione torna sulle scuole come a astigliano dove la scoperta di alcune positività ha fatto scattare lo screening a tappeto facciamo il punto con sarà lo russo la scoperta di due positività tra gli alunni dell'istituto comprensivo di stigliano ha fatto scattare l'allarme convinto l'amministrazione ad avviare uno screening ampio sulla popolazione attualmente sono 18 i positivi accertati in paese ma si teme che i risultati dei tamponi eseguiti possano rivelare l'esistenza di un focolaio più ampio per precauzione la dirigente scolastica Livia Casamassima ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle classi al momento solo due in cui sono emersi casi di positività dal comune inoltre altre attività di prevenzione a livello di prevenzione l'amministrazione comunale può tanto ancora probabilmente faremo una campagna di screening però test antigenici rapidi non abbiamo fortunatamente ottenuto anche la possibilità di fare i tamponi qui a stigliano che è un'area centroide accettura grigoglione aliano possono rivolgersi qui anziché andare come avveniva fino a poco tempo fa a policoro per fare il tampone è un servizio aggiuntivo che è stato dato ai cittadini della montagna materana e quindi è fruibile quella raccomandazione che ogni volta i primi cittadini vanno ma chiunque quella di osservare le regole più elementari è il distanziamento uso dei dispositivi Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.